Invece io penso che rimane sempre qualche cosa di bello, la natura per esempio, lo splendore del sole, la libertà, noi stessi, è un possesso che non si perde. Contempla queste cose e ritroverai te stesso e Dio e riacquisterai il tuo equilibrio. Chi è felice farà felice anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura, la tua Anna. Grazie a tutti.